Un focolaio di coronavirus tra Taormina e Giardini Naxos, dove complessivamente almeno 14 persone risulterebbero positive al Covid-19, si segnalano in particolare 6 casi a Taormina e 8 a Giardini, ma è un dato a quanto pare destinato a crescere. Si tratta infatti nella quasi totalità di giovani che sono risultati positivi, ai accertamenti ai quali sono stati poi sottoposti dall'azienda sanitaria provinciale di Messina. Si tratterebbe comunque di contagi legati alla Movida, la discoteca e i locali lotturni della zona. Intanto i nuovi 83 contagi scoperti in Sicilia portano il numero degli attuali positivi nell'isola a 1.277, l'altro ieri erano stati 1.152, di cui 1.139 in isolamento domiciliare, 76 ricoverati in ospedale con sintomi, più 5 rispetto a ieri e 12 gravi invece in terapia intensiva.